Sono sempre più numerose le richieste di aiuto che giungono al centralino telefonico dell'Humanitas, l'associazione di soccorso e di pubblica assistenza di Salerno, da parte di pazienti affetti da covid in cura domiciliare. Pazienti che seguono i protocolli di cura, ma che spesso, seppur con lievi disturbi, avvertono la necessità di essere monitorati, in modo particolare anziani e persone sole. Seppur sia un'operazione facile da eseguire, non tutti sono in grado di misurare al proprio domicilio la saturazione dell'ossigeno, solo per fare un esempio. Per aiutare dunque le persone in difficoltà durante questo periodo di emergenza covid, l'Humanitas di Salerno sta assicurando l'assistenza domiciliare, medici ed infermieri a disposizione delle persone ogni giorno. Sì certo, ormai arriviamo quasi al giorno a ricevere più di 200 telefonate al giorno, tra varie situazioni purtroppo è un momento delicato per tutto il mondo, per tutta l'Italia. Noi siamo a disposizione per qualsiasi servizio, anche per le persone anziane, possiamo accompagnare in ospedale ad effettuare i vaccini e poi li raccompagniamo a casa, ma dei semplici servizi a portare la spesa a casa e tanti altri servizi che l'utenza si può rivolgere a noi. Se hanno difficoltà ci possono contattare anche per la misurazione dei parametri, se hanno qualsiasi tipo di servizio cerchiamo di soddisfarli tutti. Ecco, proprio in questi giorni è stato potenziato il servizio di assistenza domiciliare. Sì, è stato potenziato perché ci rendiamo conto, anche perché purtroppo i parenti non possono avvicinarsi alle persone colpite da questo maledetto virus e noi in questo momento qui ci sentiamo ancora più disponibili ad accogliere la richiesta delle persone, specialmente le persone anziane, perché molte volte ci è capitato di riegarci in casa delle persone colpite da Covid che purtroppo sono sole e abbandonate. Ecco, purtroppo c'è da registrare che la medicina territoriale in questo momento non riesce a raggiungere risultati soddisfacenti. Sì, purtroppo è vero che la medicina territoriale non riesce a raggiungere risultati soddisfacenti in quanto la situazione purtroppo è precipitata da un momento all'altro. Tutti magari pensavamo una seconda o una terza ondata ma non ce l'aspettavamo così. Quello che posso raccomandare a tutti è che ha ancora un po' di pazienza di indossare sempre la mascherina e quanto prima ce ne usciremo tutti quanti vincitori da questa situazione. Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, in tanti hanno la necessità di misurare l'ossigenazione e di capire un attimino per bene i parametri quali sono. Sì, ci possono contattare la nostra centrale operativa 089 33 55 44, verrà messo in lista se un operatore appena libero dal precedente servizio si regalerà il loco per la misurazione dei parametri vitali.